Ciao, benvenuti, parliamo di... Le cose che non devi comprare a Black Friday, ma perché non devi comprarlo a Black Friday? Perché tanto le cose per noi musicisti e per noi batteristi nessuno le sconta mai. Quindi oggi ce lo facciamo noi il Black Friday e vi voglio parlare di non so quante, in realtà le conteremo man mano che ve le dico, ma cose che costano sotto i 25 euro. Sigla? No, in realtà non c'è la sigla, ma vabbè andiamo avanti. Partiamo con una cosa, ah no, partiamo dicendo se non siete ancora iscritti al canale dovete iscrivervi al canale. Perché dovete iscrivervi al canale? Sempre per lo stesso motivo, cioè che iscrivendovi al canale mi date una mano, date una mano al canale e mi permettete di crescere, ma non solo di iscritti, non solo di visualizzazione, anche di qualità, di contenuti, perché più iscritti ci sono, più contenuti porto sul canale, più qualità porto sul canale. Quindi iscrivetevi e lasciatemi anche un mi piace qui sotto. Ah ecco, parliamo di questa cosa, dato che ne ho parlato in due video fa, ma non vi ho lasciato il link in descrizione, tantissimi mi avete chiesto di questa cosa qua, e cioè il cembalino del mail. Questo affarino qua, questo cembalino qua, che si può mettere sopra il charleston tramite questo buco, poi teoricamente c'è anche una vite per avvitarlo, ma io di solito lo appoggio, come avete visto, semplicemente sul charleston e basta, lo appoggio e lo lascio lì. In modo tale che facendo contatto con il charleston suoni tanto, sia quando lo suoniamo col piede, sia quando lo suoniamo con la bacchetta. Ve lo lascio in descrizione. Questo qua, in realtà, costa un pochettino di più di 25 euro, cioè costa 26. Ma voi adesso direte, mi avevi detto sotto i 25, questo costa 26, ma in descrizione ve ne lascio anche uno da 9 e uno da 16, 14, non ricordo. Simili a questo, non proprio uguali, secondo me questo è un po' più bello perché ha più sonaglietti in confronto agli altri, ma comunque sempre di buona qualità da mettere sopra il charleston o sopra i piatti in generale. Poi, dato che mi piace tantissimo e non ve ne parlo mai, vi parlo di album. Allora, il primo album di cui vi parlo oggi è questo, Pat Metini Unity Band. Quest'album qua, ragazzi, è un album pazzesco, ovviamente, di Pat Metini, dove c'è lui alla batteria. Lui si chiama Antonio Sanchez e sicuramente lo conoscerete già, raga. Questo è un album per tutti, è un album jazz fusion, diciamo, ma lo può ascoltare chiunque. Se voi avete sempre ascoltato metal e poi ascoltiare... E poi ascoltate quest'album qua, vi piacerà sicuramente perché è troppo figo. A parte che Antonio Sanchez è un jazzista, ma in realtà è un metallaro e è partito suonando rock. E infatti, comunque, quando suona si sente questa cosa. E oltre ad Antonio Sanchez ci sono dei musicisti pazzeschi e l'album è musicalissimo e bellissimo. Quindi ve lo lascio in descrizione anche questo, Pat Metini Unity Band. Mi raccomando, compratelo perché è proprio bello. Già che ci siamo vi parlo ancora di un album e poi vi faccio vedere altre cose e poi vi parlerò di un altro album più avanti, ma comunque. Jeff Beck, Guitar Shop. Quest'album qua è super famoso anche se non in molti ne parlano. Qui c'è un trio, cioè Jeff Beck, il grandissimo Terry Bozio, raga, Terry Bozio alla batteria e Tony Haimass, Tony Haimass, Tony Haimass, Tony... Vabbè, non lo so. Ha tastiere e sintetizzatori. Quest'album qua è una figata. Non ha genere, in realtà. Perché si passa dal rock al reggae al funk. Cioè, c'è veramente qualsiasi tipo di genere. E parlando di batteria, Terry Bozio qui fa delle robe veramente fighissime. Quindi questo è un album da avere. Perché? Perché costa 7,50 euro. Ragazzi, vi lascio qui sotto in descrizione il link Amazon con 7,50 euro. Ah, molto bene. Attenzione, questa potrebbe essere la rivelazione per alcuni batteristi. MA 400 del Behringer. Allora, ragazzi, che cos'è questo affare qua? Adesso direte, sì, vabbè, il solito mixerino che non serve a niente. Allora, questo affare qua, che costa in realtà su Amazon, costa 35 euro. E vi lascio qui sotto in descrizione il link, come sempre. Ma, dato che noi dobbiamo stare sotto i 25 euro, vi dico che questo, in generale, su internet nuovo, si trova anche sotto i 25 euro. Si trova anche a 20 euro. Quindi, ci può stare nelle cose che vi sto dicendo. Questo qua, praticamente, è un amplificatore per le cuffie. E che cosa serve un amplificatore per le cuffie? Quando voi andate a suonare in giro, quando andate alle prove, e il vostro tastierista, o il vostro bassista, o il vostro cantante, che ne so, arriva col cavetto e vi dice qui c'è il click, prendilo. E prendete il click. La maggior parte delle volte quel click non è amplificato. Quindi, se voi non avete niente, fate fatica a tutte le prove, perché il metronomo sarà bassissimo e non lo sentirete. E questo se siete a delle prove. Ma se siete live, potrebbe essere un problema gigantesco. Perché se voi avete il metronomo e basta, e non lo sentite, e uscite, vabbè, pazienza. Ma se voi avete il metronomo e avete delle sequenze che, ovviamente, andranno a metronomo, è un casino. Perché se voi non sentite il metronomo e uscite dal metronomo, le sequenze non saranno a tempo ed è un problema gigantesco. Se voi avete questo, entrate con il vostro metronomo nell'in, amplificate il suono e poi uscite dall'out andando alle vostre cuffie. E in più, la figata è che questi due canali potete mettervi in cuffia, non lo so, ad esempio, quello che entrerebbe nelle vostre spie, più il click in modo tale da potervi gestire, come i due canali, tutti e due i volumi, senza fare casino che poi magari con un canale solo, destra, sinistra, dovete alzarvi tutti e due, se no non funziona. No, questo 20 euro vi togliete tutti i problemi del mondo, tutti i problemi di volume, tutti i problemi live, eccetera, eccetera, eccetera. Lo buttate nello zaino, tra l'altro vivendone insieme anche l'alimentatore, e non avete più problemi di nessun tipo mai. DVD, non vi ho mai parlato di un DVD su questo canale, ragazzi, quindi adesso vi faccio vedere questo DVD che è Great Hands of For A Lifetime di Tommy Igo. Questo, ragazzi, è un DVD molto, molto, molto figo. Io, in generale, solitamente dei DVD non parlo moltissimo, perché ormai su internet c'è tutto. Ma questo, comunque, è molto figo per vari motivi. Per prima cosa, ovviamente, c'è l'istruttore, che è Tommy Igo, ma ci sono anche tutti i suoi allievi che fanno gli esercizi che dice lui, e c'è la possibilità anche di fare gli esercizi insieme a loro, cioè loro fanno alcuni warm-up, alcune cose, e c'è la possibilità di suonare insieme a loro. Quindi è un buon modo per capire a che livello siamo, dove riusciamo a spingerci, se riusciamo a spingerci fino ai livelli degli allievi di Tommy Igo. E le figate, in realtà, sono principalmente due. Una è il fatto che abbiamo tutti i rudimenti che vogliamo, e anche qualcosa in più, tutti spiegati, cioè lui ci spiega tutta la questione delle famiglie dei rudimenti, partendo dai colpi singoli, i rough, i roll, tutta la famiglia dei paradidol, tutta la famiglia dei flemmi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma ci sono anche dei warm-up, dei warm-up da fare prima dei concerti, dei warm-up da fare tutti i giorni, c'è un sacco di roba. E in più, dato che mi chiedete dove ho trovato il poster della Vickford, che è da quella parte della stanza che adesso non vi farò vedere, perché fino a qua c'è più o meno in ordine. Di qua in avanti c'è un casino pazzesco, quindi non posso muovere la telecamera. Comunque, il poster della Vickford ho chiesto, e si può trovare solamente, ad esempio, alle clinic degli artisti Vickford o alle fiere. Mentre all'interno di questo DVD qua, c'è anche un poster dove vi fa vedere tutti i rudimenti, dove ci sono le varie velocità a cui bisogna arrivare, dove ci sono segnati con dei pallini rossi, gialli e verdi, le varie difficoltà degli esercizi. Quindi, secondo me, è fatto molto molto bene. Un poster abbastanza grande sarà più o meno un metro d'altezza per mezzo metro di larghezza. Quindi, con questo, che costa poco più di 25, raga, è qualcosa che ve l'ho messo che costa poco di più, ma le cose che vi ho messo, che costano più di 25 euro, ve le ho messe perché sono cose veramente fighe. Quindi, questa è una roba veramente figa, compratela, mi raccomando. Adesso vi parlo di alcune cose di cui vi ho già parlato, ma che è sempre bene ripetere. Quindi, se avete già visto queste cose, aspettate un attimo perché poi vi parlerò ancora di altre cose, vi dirò ancora un album e non mi ricordo. Vi sto parlando, ovviamente, di tutta la roba One Booka, dei Performer Pad, che ho sempre qui, adesso non si vedono, ma ve li prendo. Questa scatolina qua, come vi dicevo, questa scatolina qua è la scatolina dei Performer Pad One Booka. All'interno di questa scatolina troviamo due di queste gelatine qui e, oltre queste due, abbiamo anche i due waffle, mi sembra si chiamino, un pochettino più grandi. Questi, se li mettiamo sul rullante, ci fanno rullante un po' panettone, diciamo. Comunque, vi ho già parlato di questo prodotto qua, quindi vi lascio il link qui sopra. Oltre i Performer Pad, ci sono anche i Kick Dumper. I Kick Dumper sono quelli per la cassa, che no, non vi prendo perché non li ho qui. Sono quelli per la cassa, costano sicuramente meno di 25 euro, costeranno tipo 12 euro, una cosa del genere. Li attaccate alla pelle della cassa e non avete più nulla da mettere all'interno. Comunque, anche di questo, ho già fatto il video, quindi vi lascio anche di questo e una scheda qui sopra. Altra cosa che vi ho già detto, ma che è troppo importante, poi me la state chiedendo tantissimo in questo periodo, quindi ve la dedico perché devo, è la chiavetta multi-tool della Tama. Questa chiavetta qua è molto molto figa, costicchia, perché costicchia più o meno 16-18 euro, una cosa del genere, ma è una figata. Io, infatti, ne ho una che tengo sempre in studio e l'altra la tengo sempre nel mio astuccio porta-cose che vi ho già fatto vedere l'anno scorso, ma che vi metto di nuovo in descrizione anche quest'anno, perché è veramente troppo figo. Questo astuccio qua è troppo bello, perché ci sta di tutto all'interno, vedete qui ci stanno tutti i cavi, mentre dall'altra parte io gli posso mettere ancora dei cavi e ho l'astuccio anche per mettergli l'iPad, che adesso però sta registrando il video. Comunque, a parte tutto, eccola qui. Una me la porto sempre in giro, mentre l'altra la tengo in studio. Come funziona questa qua? Questa qua funziona praticamente, che ha delle brugole da questa parte, un cacciavite, una chiavetta di quelle normalissime, e una chiavetta un pochettino particolare che ho scoperto servire per fare altre robe, ma in realtà non è che serva poi così tanto. Una chiavetta da questa parte qua, cioè ha due chiavette di questo tipo, così possiamo girare in questo senso qua, oppure girare in questo senso qua. E in più ha una roba fighissima, cioè questa, che è quello che ci serve per poter tirare o mollare tutte le aste, praticamente tutte le aste di qualsiasi tipo, che siano Tama, Pearls. La cosa nuova di cui voglio parlare, che forse non vi ho mai detto, forse ve l'ho detto in un video, ma non fa niente ve la ridico, compratevi un coltellino svizzero tipo questo. È uno di quei coltellini multifunzione, che servono tantissimo. Perché? Perché ogni tanto live, o quando siete in giro a montare, o che ne so, avete bisogno di un coltellino, avete bisogno di delle forbici, avete bisogno di delle pinze. Qui in questo affarino, che è veramente piccolissimo, avete tutto. Infatti, questo costa più di 25 euro, ma sempre della Victorinox, ci sono alcuni coltellini con meno funzioni, che costano meno di 25 euro. Infatti oggi ve ne metto uno, che costa tipo 15-16 euro, che ha secondo me le due cose fondamentali, cioè il coltellino e le forbici. Queste due robe, raga, sono le cose che usiamo di più. In più, vi lascio qui sotto in descrizione, anche un altro coltellino, cioè in realtà è tipo una pinza multifunzione, che non è di marca, non è della Victorinox, ma chi se ne frega, costa 12 euro, ha molte cose in più del coltellino di marca, da 15 euro, e va benissimo lo stesso. L'ultima cosa di cui vi parlo, è una cosa un po' fuori di testa, cioè un album, ma è un album se avete un po' dei problemi mentali. Io qualche problema mentale ce l'ho, quindi lo ascolto e mi piace un sacco. E cioè l'album dei di Mars Volta, Bailam in Goliath. Quest'album qua, è un album completamente fuori di testa, perché, vabbè, lo saprete già se li ascoltate Mars Volta, sono un gruppo rock, diciamo, molto molto particolare, ma tra tutti i loro album, quest'album mi è sempre piaciuto un sacco. Alla batteria c'è Thomas Prigen, che fa veramente l'impossibile, fa qualsiasi cosa si possa fare alla batteria, ma comunque devo dire che, anche se fa tantissime cose, continua ad andare veloce, fa i suoi rulli, eccetera, 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 non rompe le scatole. Anzi, in generale, quest'album è molto musicale, dà un sacco di spunti, secondo me, musicali, e quindi vale la pena comprarlo. Costa tipo 10,90€, 11€, una roba del genere. Quindi, mi raccomando, compratelo e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Trovate anche questo qui sotto in descrizione, come ovviamente tutto quello di cui vi ho parlato oggi. Io, oggi, non so quante cose vi ho detto, ve ne avrò dette 10, 11, 12, non ne ho idea, ma sono tutte cose, secondo me, molto 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 interessanti. Quindi, qui sotto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate delle cose di cui vi ho parlato oggi. Fatemi sapere anche altre cose sotto i 25€, che secondo voi sono indispensabili, che secondo voi sono molto importanti per un batterista, o comunque per un musicista. E io, con questo, la chiudo qua, perché secondo me il video è già durato fin troppo. Quindi, vi ricordo, mi raccomando, di iscrivervi al canale, vi ricordo di andare sui miei social Instagram e Facebook, perché lì vi do un po' di consigli. Quindi, ad esempio, già tutti questi consigli che vi ho dato oggi su Instagram, ve li ho già dati probabilmente tempo fa, tramite delle foto, tramite dei video, tramite delle storie. Quindi, mi raccomando, seguitemi anche su Instagram. Io non ho più voce, quindi devo per forza finire il video. Quindi, noi ci vediamo al prossimo. Ciao!